Ciao a tutti, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Gerardo Mazzocchi e come operatore olistico sono specializzato nel lavoro energetico con i cristalli, il suono, la meditazione e il linguaggio di luce. Sono anche autore dei libri di suoni e cristalli e linguaggio di luce e di tida tra vari tipi. In questo video vorrei parlarvi di una delle mie collaborazioni, quella con lente formativo rinascere nel suono, perché appunto con rinascere nel suono prima c'è stato tutto un percorso in cui ho studiato, mi sono formato come operatore olistico del suono e poi, data la mia specializzazione nell'interazione energetica tra i cristalli e il suono, sono diventato docente di questa materia. Per cui potete trovarmi già nel percorso formativo con qualche video lezione e saranno organizzati anche dei webinar, quindi potrete trovarmi anche in lezioni live nei webinar per cristalli e suono. C'è già una lezione, questo è un piccolo spoiler, una piccola anticipazione sul linguaggio di luce, ma verranno organizzate anche poi altre cose, altri eventi, sia live di persona, si spera, che live online. Questo sempre comunque ringraziando Giovanni e Elisabetta di questo ente formativo. In più sono anche tutor per quanto riguarda il percorso online, perché questa pandemia ha un po' costretto tutti a passare da una formazione frontale a una formazione a distanza. E in questo percorso online, Rinascere nel suono, ha deciso di assegnare gli studenti, diciamo, a dei tutor. E io sono tra questi, quindi può capitare che nel caso, se qualcuno di voi si iscriva al percorso online, mi ritrovi come suo tutor. E il tutor che cosa fa? segue, aiuta, dà dei consigli su come magari relazionarsi alle materie che vengono viste man mano nelle videolezioni. Si possono fare degli incontri telefonici, piuttosto che di videochiamata, anche attraverso Skype e WhatsApp, dove si fanno dei confronti. Aiuta a correggere quello che è il workbook dei lavori, sono dei compiti che vengono assegnati durante il percorso. E quindi è quella persona che vi segue passo passo, tipo Angelo Custode, vi prende per mano e vi accompagna lungo tutto il viaggio nel suono, che poi vi porterà a essere a vostra volta operatori olistici del suono. Vi ringrazio per aver seguito questo video e se avete magari altre curiosità, volete anche avere altre informazioni, guardate pure la pagina di rinascere nel suono Giovanni Casanova, qua su Facebook, oppure potete cercare su Instagram rinascere nel suono o su direttamente il loro sito web, sempre entro in formazione rinascere nel suono. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie.